Giuseppina Fragale, Presidente del Proloco Caposuvero, siamo di gizzeria, siamo all'undicesima edizione del premio Caposuvero. Sì, è un premio, siamo arrivati all'undicesima, con tanta voglia di questo premio, è un premio che ho voluto creare, cioè ho voluto proprio io, è un premio chiamato il premio della legalità, noi premiamo delle eccellenze calabrese, come tu sai, diciamo che questo premio è un modo di dire grazie a tutte le istituzioni, a quelle che fanno qualcosa di buono. Visto che Antonio Calabria ha visto come un po' negativa, di cose negative, ma noi lo sappiamo tutti che sono delle cose molto, molto positive e ringrazio loro perché portano avanti e sono l'eccellenza della Calabria, queste signore. E io stasera sono felicissima che siamo arrivati all'undicesima edizione. E io stasera sono felicissima edizione.